Buonasera, buonasera a tutti e grazie davvero per questa accoglienza che è strepitosa perché vedere una sala piena con le due sale in collegamento strapiene insomma è davvero una gioia per gli occhi e quindi siamo sicuramente felici di essere qua. Io ringrazio ovviamente il circolo dei lettori Emanuela Sbiroglio che è responsabile di questa... Eleonora scusate Così abbiamo fatto il pari, perdono, è responsabile di questa magnifica rassegna che vi vede così numerosi. Io sono particolarmente felice di essere qui con Enrico perché mi dà davvero l'occasione di parlare un po' di un amico se si può dire perché con Enrico ho la fortuna di lavorare da un po' di anni, mi sono appassionata alla montagna anche grazie a lui senza nulla togliere al tuo nanni settembrini dei tuoi gialli però Gary Hemming è stato veramente un innamoramento. Per me è un innamoramento recente del quale ti sono debitrice e per te sicuramente qualcosa che è più profondamente radicato. Allora siccome di Gary parliamo questa sera perché Gary Hemming e chi è lui per te. Sì buonasera a tutti anch'io rinnovo i ringraziamenti. Per me è una vecchia conoscenza come scrivevo proprio oggi sulla mia pagina facebook io l'ho scoperto che avevo vent'anni più o meno, lavoravo alla rivista della montagna ed eravamo due giovani redattori io con Andrea Gubetti che lo conoscerete come speleologo e adesso abita in Toscana e avevamo una specie di fratello maggiore che era Giampiero Motti che era anche stato il direttore della rivista ma per noi era soprattutto una persona che ci dava ispirazione insomma ci è dato tanto e un giorno Giampiero ci parlò di questo articolo e anche di quest'uomo perché di fatto di Hemming si sapeva pochissimo che era venuto sulle Alpi a scalare dalla California e aveva fatto un salvataggio che in Francia era noto perché era stato pubblicizzato anche sui giornali importanti in televisione i francesi lo sapevano ma non in Italia niente ma questo articolo aveva colpito non so se direttamente Motti o qualcuno per lui che poi ne aveva parlato perché era decisamente rivoluzionario rispetto ai normali racconti di alpinismo che si erano letti fino ad allora tra l'altro io parlo di quello che racconto io si è svolto molto dopo ma l'articolo risale addirittura al 1966 quando ancora insomma si andava in montagna da noi con un certo eroismo con un atteggiamento completamente diverso da quello introdotto dagli americani e in particolare da Gary Hemming adesso non è qui il caso di raccontare tutto però la cosa significativa è che l'articolo era uscito su Parimatch quindi su un giornale totalmente strano all'alpinismo ed era di fatto lui era stato quasi costretto a scriverlo a caldo quando era sceso da questo soccorso mirabolante e quello che colpiva era lo stile era lo stile che aveva qualcosa di Hemingway forse e che comunque parlava di tutto meno che di alpinismo perché lui parla della guerra del Vietnam parla del terremoto in Turchia che c'era stato in quei giorni parla del soccorso ma visto quasi dal punto di vista di un esterno quasi come se lui non ci fosse e quindi per una volta non c'era l'alpinista al centro di tutto con il suo narcisismo con la sua visione molto autoreferenziale ma c'era un uomo del suo tempo che guardava mentre soccorreva questi due tedeschi guardava quello che succedeva nel mondo ecco e poi l'abbiamo tradotto per la rivista della montagna ed è uscito nell'83 purtroppo l'anno in cui poi anche Giampiero Motti si è tolto la vita quindi insomma è stato un anno particolare e questo è forse ciò che rende questa storia non solo una storia di montagna perché anche un po' vedendo i riscontri che il libro sta avendo il libro è uscito da due settimane insomma il percepito è veramente molto buono perché evidentemente il personaggio di Gary arriva e colpisce nel profondo anche chi non è strettamente appassionato di montagna voi siete qui probabilmente siete dei montanari o comunque degli amanti di questi di questi spazi e di queste tematiche però è una storia che ha una potenza che va al di là di questo perché Gary è un personaggio che si porta dietro in realtà una generazione diventa un simbolo pur involontariamente di qualche cosa sì lui era del 34 quindi diciamo che le 68 era già un po' vecchiotto per i standard di allora no ma lui era avanti in tantissime cose come vi ho detto nello stile di scrittura e forse non lo sapeva nemmeno perché è una delle poche cose che ha scritto e che ha pubblicato ha scritto tanto ma ha pubblicato abbastanza poco era avanti nell'alpinismo sicuramente quando sono arrivati i californiani sulle alpi sembravano i marziani perché avevano delle tecniche soprattutto una visione decisamente diversa da quella che noi ci portavamo dietro che no io non c'era ma insomma che loro ci portavano dietro avevano già anche dei materiali molto simili a quelli che si usano oggi come i blocchetti ad incastro che sono i nut che non costringono lo scalatore a piantare i chiodi col martello e che insomma per noi nessuno li ha conosciuti fino poi ancora dieci anni dopo direi ma avevano anche una valenza ecologica perché c'era anche questo rapporto con la roccia poco poco aggressivo quindi c'era tutta una filosofia che poi Hemming in qualche modo ha messo in luce in un articolo sulla rivista del club appino francese si intitola alla ricerca di un equilibrio dove appunto mette in luce la sua visione dell'andare in montagna comunque in genere della natura dell'avventura che era molto legata ai grandi padri del protezionismo americano come John Muir come i grandi come Turo quindi insomma i personaggi che avevano in qualche misura fatto in America dell'ecologia uno stile di vita ecco lui era molto legato a queste visioni e poi era avanti anche se vogliamo insomma era un po' un presezzantuttino senza saperlo tant'è che poi nel libro c'è proprio il maggio parigino e noi pensavamo inizialmente che lui non ci avesse preso parte che fosse in giro perché era un vagabone invece lui era a Parigi e quindi si è trovato con dei ragazzi molto più giovani di lui che più o meno dicevano le sue cose rivendicavano certi principi e urlavano certi slogan e lui era un po' combattuto perché da un lato era contento che il mondo si fosse svegliato che si combattesse contro la guerra del Vietnam questo soprattutto a Berkeley comunque anche un po' in Europa ma soprattutto era combattuto tra partecipare quindi prendere parte cosa che poi un po' ha fatto perché ha cominciato anche a distribuire questo giornale del movimento di Parigi che si chiamava Action però sempre un po' come lui era un po' anarchico quindi insomma queste queste masse questa gente questa partecipazione così concitata lo preoccupava un po' perché aveva sempre paura anche dei ritorni di violenza insomma era un uomo sicuramente in anticipo sul tempo ma anche in lotta col tempo e in lotta un po' anche rispetto all'immagine che poi gli è stata affibbiata perché lui è stato tra i protagonisti di un intervento appunto di salvataggio riuscito che è assurdo alle prime pagine insomma della della cronaca come diceva Enrico su Parimaccio che non era una rivista di montagna però gli artefici di questo salvataggio rocambolesco avventuroso drammatico meraviglioso le pagine le scoprirete vi terranno incollati lui era uno dei protagonisti si era portato appresso un gruppo di pirati che erano un po' dei mezzi ribelli della montagna rispetto invece alla parte più istituzionale delle guide di Chamonix e lui però nel momento in cui sono tornati a Chamonix portando in salvo questi ragazzi non vi svelo nulla insomma sono cose risapute è stato un po' scelto forse proprio per questo carisma innato che è come se Gary fosse un uomo dai grandi talenti che in qualche modo però lui rifiuta come se gli stessero scomodi sì è così perché non so se lui era cosciente fino in fondo di averli questi talenti ma sicuramente lui ha sempre scelto una vita un po' defilata poi vabbè si dice che dormisse sotto i ponti della Senna come Hemingway tra l'altro non so se questa è una citazione di Hemingway stesso oppure sicuramente lui ha fatto dell'esperienza anche di questo tipo perché gli interessava però qualche vezzo se lo concedeva gli piaceva conoscere i clochard sicuramente non aveva una casa quindi lui veniva ospitato una volta da uno una volta dall'altro era un vagabondo ma era appunto uno che amava stare un po' defilato e questo soccorso del 66 dove erano effettivamente in sei loro i pirati cosiddetti quindi sei ragazzi che lui aveva scelto non a caso anche se li ha scelti in poche ore quindi non so come ha fatto li ha trovati a Chamorili per le strade per i bar e gli ha detto venite che andiamo a prendere quei due là che sono a due terzi della parete OVS del Drue quindi la parete più difficile del bianco dove l'esercito da una parte cioè i militari e le guide non sapevano da che parte cominciare perché ai tempi non c'era l'elicottero che oggi ci prende come dei fuscelli gli elicotteri c'erano però non facevano i salvataggi con il vericello quindi prendere due ragazzi col brutto tempo a due terzi del Drue voleva dire o andare in cima della via normale che è già una roba eterna portando su un sacco di roba e poi calarsi attraverso gli strapiombi oppure come poi hanno fatto le guide salire dalla parete nord che è comunque una via difficile e poi traversare su questi chiodi a pressione che avevano messo i primi salitori per andare erano comunque delle cose che nessuno pensava di poter realizzare in fondo sotto i temporali, la neve, tutti i giorni pioveva, grandinava e lui ha detto a questi qua che ha trovato per le strade quando ha deciso di andare in un pomeriggio perché lui si trovava a Courmayeur, la mattina apre il giornale vede che questi due sono ancora là e dice al suo amico Lothar Maud andiamo, dobbiamo andare perché insomma potrebbe capitare a noi l'altro l'ha guardato come un pazzo e gli ha detto ma cosa dici e lui allora l'ha costretto a ritornare a Chamonix con la galleria che era appena stata aperta perché era il primo anno sono tornati di là e lui in un pomeriggio ha raccattato questi cinque disperati che però erano fortissimi ed erano, quindi non li ha presi a caso tra cui c'era anche il grande François Guillot che poi di fatto sarà il capocordato di tutta l'impresa che è un uomo vivo e vegeto, io l'ho conosciuto ancora molto prestante che vive a Marsiglia e quindi erano già lì un po', era un po' il soggetto di un film rivoluzionario nel senso che senza volerlo ha messo in piedi dei personaggi che non erano per niente casuali però la cosa che poi l'ha colpito, l'ha fregato in qualche misura anche è il fatto che tornando poi dopo e poi De Maison, la famosissima guida del bianco non del bianco, la più famosa guida delle Alpi super mediatizzato, quindi tutti sapevano chi era De Maison insieme a un giovane aspirante guida si accodano e quindi sono in otto alla fine ma i giornalisti chi scelgono come interprete di questa vicenda scelgono Gary Heming non si sa bene perché perché era il più bello, perché era il più alto perché aveva gli occhi azzurri, perché era americano vai a capire qui succede che a un certo punto come una sceneggiatura non scritta decide che l'eroe è lui ma lui l'eroe li detestava lui era sempre stato defilato da questo mondo di luci e di riflettori e quindi si è trovato dentro una cosa che non gli apparteneva sicuramente era anche contento all'inizio c'è un'intervista che si può vedere su internet anche di quando scende dall'elicottero è visibilmente soddisfatto però è anche stordito da tutta questa gente che gli sta addosso e beh io ho deciso di partire di lì perché mi interessava appunto la storia di un uomo così in qualche misura ai margini che diventa immediatamente famoso così famoso che le donne chiedono di sposarlo che i taxisti non gli fanno pagare la corsa che a Parigi viene invitato in tutti i salotti letterari e però lo in pratica in pochi mesi sbarella come si dice cioè non riesce a gestire questa notorietà e quindi insomma entra in una specie di seconda vita che credo non avesse previsto ed è questo immagino che ti ha affascinato perché la storia di Gary comunque in qualche modo era già arrivata anche a noi in Italia anche Mirella Tenderini aveva già raccontato in forma forse più canonica la sua biografia quello su cui ti sei voluto concentrare tu sono gli ultimi anni quelli insomma dell'ascesa impicchiata e poi dell'inevitabile caduta di un ragazzo che come abbiamo visto anche in tante rockstar c'è il famoso club dei 27 di quelli che arrivano ai 27 anni e poi ahimè se ne vanno da Jim Morrison, Janis Joplin lui ne aveva qualcuno in più però alla fine potrebbe fare parte del club di queste persone che appunto sono catapultate nell'Olimpo e poi però non lo sanno gestire e ne approfitto anche perché l'ospezione di cui parlava prima Enrico lo trovate anche nel podcast che è stato realizzato un po' a supporto del libro cioè oltre ai contenuti del libro che è una narrazione che vi catturerà potrete trovare appunto il podcast Gary Heming storia di un'ossessione dove si approfondisce un po' l'aspetto il contesto storico sociale e ci sono insomma un po' di chicche e sentirete appunto la voce di Gary Heming quasi in imbarazzo di fronte a questo trionfo inaspettato ti chiamano eroe Gary ma mi chiamino come vogliono insomma io sono sempre sono sempre io si può essere tutti eroi per un giorno e conigli il giorno dopo qua Bowie parte sembra che David Bowie l'abbia rubata ma in realtà è la stessa frase proprio esatto lui è appunto diciamo per certi versi un precursore e anche un uomo un po' fuori dal tempo rispetto a quello che sta vivendo come era la Chamonix che tu descrivi molto bene con piccole pennellate come la Chamonix di quegli anni degli anni 60 era diversa da quella che conosciamo adesso però aveva un suo fascino si, Chamonix era già il centro del mondo alpinistico era già una città internazionale paese internazionale non era ancora la cittadina di adesso adesso ci sono le torri c'è una fisionomia un po' modernista che viene pochi anni dopo quando lui non l'ha vista le torri era un paesone molto vivo pieno di turisti dove appunto da pochi mesi era stato aperto il tunnel del bianco quindi era diventato anche un transito internazionale veramente perché già prima c'era un turismo internazionale ma col tunnel evidentemente l'Italia si è avvicinata di colpo sicuramente era un posto dove le guide alpine avevano un ruolo tradizionale importante Heming ha provato a fare il corso e al certo punto ha detto ma io non accetto che chi arrampica peggio di me mi insegna ad andare in montagna e quindi l'hanno sbattuto fuori a calci ma era effettivamente una società piuttosto tradizionale anche De Maison aveva tutti i suoi bei problemi a diventare guida perché se uno veniva da fuori già era visto di brutto e comunque insomma comandavano delle persone piuttosto della valle piuttosto legate alla tradizione però le guide erano importanti erano come sono oggi ma forse di più sicuramente grandi personaggi grandi alpinisti anche e quindi c'era già questo scontro diciamo da una parte chi nasceva lì che veniva da una dinastia di guide eccetera e dall'altra parte questi alpinisti che arrivavano da fuori compresi i suoi pirati gli altri tra cui vi ho detto Di Ghiò che veniva da Marsiglia poi c'era uno che veniva dalla Germania che si chiama Gerhard Bau che poi è diventato un grande regista di alpinismo di montagna oppure c'era il suo amico Mauca che faceva il modello sfilava quindi immaginate le guide alpine con i pantaloni la zuava i calzerotti i calzettoni con i fiori ecco insomma c'era un po' di contrasto e lui con il maglione rosso bucato che è in copertina una copertina che vi cattura da subito perché lui vi guarda dritto in faccia non abbiamo avuto dubbi in effetti quando è stato il momento ecco visto l'approccio ecco com'era Gary Emin lo hai già accennato com'era come alpinista e come si poneva nei confronti di figure alla Walter Bonatti per dire che interpretavano invece l'alpinismo tradizionale lui con Walter Bonatti ha avuto un contatto che non è stato un contatto nel senso che si è trovato alla capanna gamba voi tutti saprete del del frenei del 61 no? quando c'è stata la tragedia e allora anche lì è stata una storia un po' triste perché le guide di Curmaia non si può dire che si hanno proprio dannate l'anima per salvarli e Emin si è trovato lì col suo amico John Harling perché c'erano altri due amici loro non italiani che si erano grandi spersi che poi si sono salvati con i mezzi loro e quindi loro erano saliti per aiutare questi due le fidanzate gli hanno detto dai andate per favore che siamo in ansia e loro sono saliti sono arrivati lì e hanno scoperto che c'erano gli altri molto più famosi che erano dispersi sul ghiacciato del frenei Bonatti Masò eccetera tra l'altro Masò diventerà poi un caro amico di Heming e lui si è subito scontrato con questi che non si muovevano che tergiversavano perché loro invece sono andati subito al collo dell'innominata hanno fatto quello che potevano quindi il suo contatto con Bonatti è stato quello il primo poi lui in un'intervista dice che ammirava Bonatti come avventuriero dopodiché non so se si siano mai incontrati secondo me era un non rapporto nel senso che lui ha sempre frequentato altre persone ecco il più vicino a quel giro di gente lì era proprio De Maison che però era un alpinista diciamo ancora di quel periodo ma un po' ribelle anche lui quindi era già un po' diverso dagli altri io non credo che lui abbia mai arrampicato con quel genere infatti anche con Masò che poi appunto riconoscente per la sua per il suo impegno lì ha la capanna a gamba eccetera l'ha cercato e l'ha ospitato a casa a Parigi sono di tra dei propri amici però lui come Masò non ha mai arrampicato quindi secondo me con quel giro lì lui non ci andava a che spartire perché poi dal tuo romanzo si evince che Gary Hemming appunto sia una figura di grande carisma che quindi probabilmente ha una capacità di attrarre a sé le persone però fondamentalmente è una persona sola forse anche per una certa incapacità di gestire i rapporti lui scappava era un girovago ci sono alcune figure poi non voglio addentrarmi troppo però alcune figure nell'arco della narrazione che fanno un po' sono un po' dei riferimenti per lui come forse in virtù anche del fatto che gli è mancato una figura paterna di riferimento c'è in particolare il giornalista che se lo prende a cuore Pierre Geoffroy che gli fa un po' da guida nel momento in cui è nel pieno del turbine giusto? Sì anche perché era un po' la causa di tutto perché questo Geoffroy che era un grande giornalista scriveva su Parimaci su altri giornali importanti era un scrittore molto un intellettuale insomma molto riconosciuto in Francia quando sanno che c'è questo soccorso in atto Parimaci gli dice vai sei il nostro inviato vai e lui fa ma non dovevi neanche dirlo ci andavo comunque e allora prende un treno di notte e arriva a Chamonix proprio il giorno che la mattina che gli elicotteri scaricano i sopravvissuti giù a Chamonix e quindi si prende Heming sotto all'ala diciamo prima gli fa la corte poi lo costringe quasi gli dice tu domattina tu non vai a dormire finché non hai finito l'articolo e gli mette in mano una penna o dei fogli di carta gli dà caffè finché basta e in questo hotel de Paris dove Heming viveva ogni tanto che è un hotel che dava ospitalità a tutti nelle mansarde anche gratis bastava sdebitarsi lavando i piatti facendo qualcosa quindi era un posto eccezionale dove erano passati anche molti grandi artisti eccetera beh lui si passa una notte a scrivere e alla mattina consegna il famoso articolo e però poi di fatto questo lo lancia nell'Olimpo e quindi lui poi continua a stare attaccato a Geoffroy un po' per essere aiutato perché lui voleva scrivere un libro quindi aveva bisogno di contatti editoriali e un po' perché lui a Parigi era un po' pesce fuor d'acqua senza questo appoggio e quindi ottiene addirittura un anticipo dall'editore per un libro che lui non scriverà mai ottiene un piccolo alloggio a Parigi due camere dove lui vivrà per due anni insomma entra un po' in questo mondo attraverso il suo mentore che poi è stato per me fondamentale perché quando io non sapevo niente di Geoffroy non sapevo neanche che fosse morto ma poi ho scoperto tanto quanto era importante e poi ho scoperto che la figlia quando è morto aveva consegnato i suoi diari a un archivio francese quindi addirittura in rete io ho trovato le corrispondenze tra Heming e Geoffroy e questo mi ha permesso di ricostruire un po' gli ultimi anni che erano quelli più misteriosi quindi insomma è una figura importante nella storia di Heming io non ho capito sicuramente si volevano bene non ho capito come fosse il rapporto se fosse ma io credo che fossero proprio diventati amici ad un certo punto anche perché Geoffroy non andava in montagna quindi non c'era nessuna rivalità non c'era era proprio uno di un'altra di un'altra sfera insomma Heming era pieno di interessi letteratura cinema arte insomma sia con Masot Pierre Masot che era un altro che è vivo Masot è del 30 ma è vivo è stato ministro insomma un personaggio importante della politica francese un gollista tra l'altro quindi proprio disegno politico molto diverso da Heming però anche con lui sono diventati veramente amici però non andavano in montagna parlavano di donne di letteratura facevano i bohemian nonostante che Masot lavorasse al lavorasse al governo quindi non è che avesse tutto sto tempo da buttare ma si vede che quel poco che aveva lo buttava con Heming in effetti Gary Heming è un personaggio a 360 gradi è un alpinista fortissimo forse persino a sua insaputa però un uomo di grande cultura di grandi interessi di grande sensibilità lui è venuto via dall'America negli anni in cui l'Europa guardava all'America perché c'era tutta una generazione di ribelli sulle montagne rocciose a cui i giovani europei guardavano lui che cosa Gary che cosa è venuto a cercare invece in Europa come mai questo moto contrario rispetto alla tendenza eh questo è interessante ma intanto lui si stupiva quando gli europei lo guardavano come un oracolo appunto chiedendogli tante cose e lui era scappato dall'America quindi evidentemente non ci stava tanto bene lui era veramente ossessionato dalla violenza che c'era in America a vari livelli ma per esempio tu hai citato le montagne rocciose che erano uno dei primi dei posti dove lui aveva cominciato a scalare nel Wyoming dove lui aveva fatto a botte una sera con un gruppo di mandriani veramente grezzi che l'avevano distrutto lui è stato un mese e mezzo in ospedale credo quindi parliamo proprio di quella violenza che noi vediamo nei film americani insomma di questi posti di provincia possiamo considerare un posto così non c'era ancora il turismo che c'è adesso dove appunto venivano fuori queste risse tremende e allora lui in Europa credo che cercasse beh le Alpi sicuramente lo affascinavano perché comunque le Alpi erano l'origine dell'alpinismo quindi era il posto dove c'erano le pareti più famose gli alpinisti più famosi questo gli interessava tant'è che poi le hanno anche un po' sottovalutate lui e il suo amico John Harlin perché quando si sono trovati a competere per la prima salita del pilone centrale per l'invernale della Walker eccetera hanno perso tutte le corse perché non erano ancora abbastanza competenti diciamo di quei terreni lì quindi freddo lunghi avvicinamenti quote elevate là è tutto leggermente in California no è un'altra cosa ma anche nelle montagne rocciose è tutto un po' più basso un po' più a dimensione diciamo e quindi lui in Europa cercava questo e cercava credo la cultura lo affascinavano lo affascinava lui non è venuto in un posto qualunque lui è andato in Francia è andato a Grenoble innanzitutto dove si è iscritto a filosofia e dove ha conosciuto la madre di suo figlio cioè la donna con cui farà un figlio e poi è andato a Chamonix e poi è andato a Parigi insomma non erano posti qualunque quindi era affascinato credo di tutto questo dopodiché era in perenne fuga no anche quindi a un certo punto si stuferà anche di Chamonix e quindi farà una fuga in senso contrario no insomma era anche un uomo irrequieto parecchio irrequieto e qui qui sulle Alpi o comunque siccome appunto il podcast si intitola Gary Heming storia di un'ossessione lui aveva un'ossessione o per una cima o per qualche concetto questo non l'ho mai capito non lo dice non si sa diciamo che lui sulle Alpi è diventato famoso per due pareti che una l'ho già citata non però sulla via dove si sono persi i due tedeschi ma sulla diretta che lui fece con Royal Robbins ed è una via che ancora oggi è famosissima importantissima e l'altra è la parete sud delle Ghi di Fu che è quella che più assomiglia alle pareti di Yosemite in qualche misura proprio uno specchio di granito che sono state per lungo tempo le due vie più difficili del Monte Bianco però poi se vogliamo l'ossessione è venuta su un'altra parete che invece era la stessa per esempio di Bonatti o di De Maison che è la nord delle Grand Juras perché era famosa era mancava ancora la ripetizione americana quindi lui per prima cosa un paio d'anni dopo essere arrivato qua sale lo Sperone Walk alla via di Cassin ed è la prima americana e va tutto bene una bella giornata due belle giornate insomma è un ricordo per lui molto gradevole poi tenta l'invernale dello Sperone Walker ma viene poi rinuncia non ce la fanno e viene poi scalato invece da Bonatti e da De Maison a pochissima distanza sia distanza da Amy ma anche distanza tra di loro perché era il momento in cui c'era la gara per le grandi invernali e poi gli viene un pallino che lui non confessa mai ma che io ho scoperto grazie anche a Gonia che ne aveva parlato in un suo libro cioè lo Sperone Walker in solitaria perché lui per due volte almeno io ne ho scoperte due ma magari ce neanche tre tenta negli ultimi anni di vita quando ormai la montagna lo affascina sempre meno secondo me perché è sempre più preso dalle sue tentativi letterari dalla sua vita a Parigi c'ha altre amicizie però d'estate lui puntualmente tenta questo Sperone e non ce la fa per due volte fallisce e poi verrà salito da Alessandro Gonia due giorni dopo il suo ultimo fallimento si incrociano sul ghiacciaio si salutano ma non sanno assolutamente chi siano e quindi anche quella storia lì si finisce diciamo con una sconfitta la cosa se volete tragicomica è che nel primo tentativo nel 66 no 7 no scusate siamo sì 67 lui sale fino al dietro Rebuffa vabbè insomma abbastanza in alto e poi rinuncia e mentre lui si cala in basso proprio all'inizio della parete un francese che veniva che una cordata francese uno dei tre cade cade senza morire ma cade con un urlo lancinante e quelli che sono sopra di Gary Eming sono sicuri che sia caduto lui e quindi in Germania gli scrivono un bel necrologio i giornali fanno tutto un servizio il nostro l'eroe del drue che fine brutta che ha fatto eccetera eccetera e questi due raccontano per filo per segno che l'hanno incontrato che l'hanno lasciato andare poi però lui ha voluto tornare indietro e che poi è stato un urlo e è sparito poi godetevi il passaggio in cui invece Gary scopre della propria morte perché è notevole questo me lo sono un po' immaginato che lui a un certo punto appunto incontra questi due che gli dico ma non eri morto lui fa ma dove dice sulle Grand Jauras interessante ed effetti gli fanno vedere questo articolo che che racconta per filo per segno quindi lui insomma ha avuto due morti dicevamo appunto lui insomma non aveva probabilmente quell'ossessione per la cima che siamo abituati a conoscere negli arpinisti tradizionali ne hai già fatto un po' accenno prima però ti chiederei di addentrarti un po' di più nella filosofia di scalata di Gary perché e poi ci arriviamo insomma è qualcosa che ha condizionato anche una corrente di pensiero che è arrivata anche se un po' in ritardo anche qui in Italia sì lui da questo punto di vista era modernissimo senza saperlo lui diceva tre cose una è seguite l'insegnamento di John Muir cioè se io vado dentro la foresta o su una montagna io devo lasciare al massimo un ometto di pietra dove parto un ometto dove arrivo e basta non devo dire niente devo lasciare tracce devo spegnere i fuochi dei miei bivacchi devo togliere ogni possibilità che chi mi segue non abbia quell'esperienza in te cioè permettere a chi mi segue di avere l'esperienza che ho fatto io quindi è proprio un atteggiamento anche un po' radicale e lo stesso traslato in parete vuol dire togliere i chiodi che ho piantato infatti quando fanno la diretta al Drew lui e Robbins ne mettono mi parlo un'ottantina e ne lasciano tipo due o tre insomma quindi anche lì il ripetitore era totalmente in balia di un terreno ancora quasi inesplorato e il terzo la terza cosa che dice è quella che poi l'unica che abbiamo veramente realizzato cioè dice i chiodi servono per assicurarsi non per tirarti su e pensate che siamo negli anni 60 quando proliferavano ancora le direttissime a goccia d'acqua quindi c'era un po' questa mania di strachiodare le pareti e di fare le vie strapiombanti e lui già lo dice chiaro e tondo adesso non è che loro non si attaccassero mai ai chiodi perché erano umani e non erano bravi certo come gli arrampicatori di adesso però l'idea c'era cioè l'idea era il chiodo mi serve per non farmi male ma non mi serve per far la scala da galline come dicevano i cattivi cioè un chiodo dopo l'altro io mi tiro su eccetera e questi erano tre concetti di cui appunto alcuni sono ancora totalmente futuristici e invece il terzo di fatto è un po' la base dell'arrampicata sportiva dove il chiodo serve per assicurarsi e non per salire e quindi era molto avanti lui poi fece una cosa che secondo me era più avanti di tutte che è la meno famosa la meno conosciuta la meno considerata ma che un giorno lui amava molto le Calang di Marsiglia che sono queste dolomiti in riva al mare proprio vicino alla città posto magnifico dove ci sono queste insenature e la più famosa si chiama Anvaux ed è proprio un fiordo di acqua azzurrissima con le pareti a picco da una parte soprattutto dove tra l'altro lui aveva già scalato con i suoi due amici Hemming no Arling e Robbins le Perondes American quindi conosceva bene quella zona lì e lui a un certo punto gli è venuta a quest'idea dice ma se io provo magari stando a mezzo metro dall'acqua al massimo un metro al massimo un metro e mezzo due finché cade non mi faccio male nell'acqua insomma posso provare a attraversare a filo d'acqua ma è andato avanti per centinaia di metri e facendo tanti tuffi e tanti tentativi è riuscito a fare quella che oggi l'ha attraversata Gary Hemming che tutti noi abbiamo fatto per qualche metro perché è lì poi se si va a fare le Perondes American la fai comunque ma nessuno credo io non ne conosco nessuno che sia arrivato fino in fondo facendo quasi un chilometro di tre ecco lì è proprio capisci che la cima lì non esiste cioè lì la cima non c'è io vabbè poi mi sono inventato questa immagine che assomiglia un po' alla vita perché noi non l'abbiamo mai ma adesso la leggo posso così non me la fai raccontare no perché è uno dei passaggi non so meglio riuscito comunque veramente emozionanti perché ci ritrovi il personaggio in tutto in tutto il suo spessore cioè di uomo che davvero non ha non ha bisogno in qualche modo del successo non ha bisogno di fare grandi proclami di conquiste ha bisogno di mettersi alla prova con se stesso fondamentalmente è una mezza paginetta non vi non vi rubo di più dalla spiaggia di Envaux deserta fino alle prime ore del mattino ha notato le curve della calanca che amoreggia con il mare a pelo d'acqua ha già esplorato il basamento della scogliera e per raggiungere le perondes americaine e altre linee di scalata o magari per fare un tuffo ma a ben guardare scopre che il nastro di mare e calcare si srotola per circa 200 metri verso il capo di Cassiveil disegnando una via orizzontale che grande invenzione giorno dopo giorno familiarizza con il progetto provando e riprovando i passaggi a pochi centimetri dall'acqua bagnato di sale ubriaco di sole sente che il corpo e lo spirito rinascono il gioco a pelo di mare è più appassionante di un'ascensione non c'è vetta da raggiungere né cielo da scalare il lungo guado assomiglia alla vita l'attraversata da un posto che conosci a un altro che non sai una sequenza di azioni perfette e perfettibili che non vanno su nessuna cima gli alpinisti contano il vuoto che fabbricano salendo e se ne vantano invece lui è sempre a zero metri sul livello del mare e mentre crea la via mentre crea la via l'acqua la cancella secondo me è veramente pura poesia e c'è un po' tutto lui sì che abbiamo fatto veramente dei chilometri perché l'ha provata riprovata e vi consiglio un'altra bellissima descrizione di questa cosa sul libro di Andrea Gobetti è una frontiera da immaginare non è una pagina è mezza pagina bellissima dove parla appunto da attraversata Gary Heming bene allora io adesso andrei verso la conclusione sì assolutamente vuoi farci accenno magari è un argomento che questo pubblico già conosce però il nuovo mattino di cui facevi accenno in qualche modo ha assorbito questa filosofia di Gary Heming in che modo in Italia questa questa mentalità questo approccio ha preso piede in che forma sì l'ha assorbita senza senza saperlo senza essere cosciente perché Heming era già morto nessuno l'aveva mai incontrato per cui se l'ha assorbita è proprio un caso cioè vuol dire che era veramente profetica diciamo perché il teorizzatore del nuovo mattino è Gian Piero Motti che però però parliamo degli anni 80 quindi Heming è morto da più di 10 anni e Motti scrive un articolo noi lo chiamiamo il nuovo mattino perché lui scrisse un articolo sulla rivista della montagna nel 80 scusate nel 73 no 10 anni no ha detto una scemenza è morto da 4 anni pensavo all'83 che citavo all'inizio quindi sono passati 4 anni Motti scrive un articolo prendendo un pezzo di una canzone di Bob Dylan il nuovo mattino che era già stato tra l'altro usato da degli scalatori californiani quindi c'era tutto un giro di citazioni diciamo un valtre di citazioni e questo 74 non 73 sulla rivista della montagna è quello che ci ha raccontato nel dettaglio che cos'era l'alpinismo californiano anche se Motti non c'era mai stato in California quindi lui l'ha scritto leggendo parlando con qualcuno che c'era stato come Patrick Cordier e basta noi non conoscevamo credo nessun alpinista californiano meno che Maggie Riemi che non c'era nemmeno più quindi l'articolo è straordinariamente preciso però non è un'esperienza è una spiegazione di un fenomeno sia tecnico che filosofico a questo fenomeno senza conoscerlo fino in fondo si appellano un po' questi giovani degli anni 70 Motti Gobetti anche c'era che ha scritto delle belle pagine ma poi soprattutto Danilo Galante Bonelli e altri Giancarlo Grassi che siccome vogliono fare un po' i californiani cercano delle pareti dalle nostre parti che assomiglino un po' a quelle là e trovano delle pareti in Valle dell'Orco che sono molto simili effettivamente al Capitan ma sono molto più basse quindi se là c'è il Capitan qua diventa il Capora l'Insurgent eccetera e vivono effettivamente delle avventure cercando ecco lì c'è un personaggio importante che non è americano però che è scozzese e che si chiama Mike Osterlitz ecco lui effettivamente ha raccontato tecniche cose perché lui era a Torino a studiare al Politecnico anzi a fare il ricercatore quindi era un po' il tramite tra una cosa e l'altra però non era americano e basta gli altri sono tutti nostrani infatuati di una filosofia ma poi di fatto vengono da una scuola che è ancora quella di adesso quello che cambia è lo sguardo perché appunto se la parete finisce in un prato di rododendri va bene così non c'è bisogno di andare su una cima con le croce eccetera e questa è la novità cioè come dire acquire lo sguardo come diceva Marcel Proust per vedere cioè il viaggio che conta è lo sguardo e tu puoi fare mille volte quello stesso viaggio cambiano sguardo e quindi facendo esperienze diverse non è l'impresa la via famosa la cima e quindi fanno dei viaggi ecco dei viaggi che dice che sono anche un po' fumati qualche volta sicuramente lo erano partendo spesso tardi tornando tardi bivaccando in modo tragicomico sono delle esperienze diverse ecco che non so se assomigliano a quelle californiane ma sicuramente non assomigliano a quelle eroiche ecco è una cosa che dura tre anni perché poi Danilo Galante muore tragicamente con Giancarlo Grassi in una notte di tempesta quindi di fatto dura dal 73 al 75 poi ci sono i sassisti della Val di Mello comunque insomma però questa cosa qua come dire mette il seme di un cambiamento poi invece epocale perché oggi tutti facciamo quelle robe lì e nessuno ci viene a chiedere che cima hai scalato che croce hai aggiunto sei partito presto cioè ognuno fa quel che vuole sostanzialmente e oggi è normale ma non lo era affatto in quegli anni là insomma quindi è veramente un po' un passaggio di boa ecco grazie a tutti